Andremo ad aprire questo super box Ragazzi, è arrivato anche Zeus Una piccola interruzione pubblicitaria Questo qua Ciao amici fiusini Come state? Spero tutto bene Oggi andremo a fare Un video super food A tema Halloween Sì E quindi Dobbiamo subito prepararsi Ho visto bellissimo il dischio Andremo ad aprire questo super box A sorpresa E vedremo cosa c'è all'interno Io non l'ho ancora aperto Infatti c'è ancora cellulfa E voglio proprio vedere Cosa ci sta all'interno E poi mangerò Uno per Praticamente Quello che ci sarà All'interno Ne mangerò Uno per E ci sono Tanti 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 Dolci Quindi Iniziamo Subito A vedere Cosa c'è In questo Meraviglioso Deschio Cosa c'è Wow Allora Vediamo Subito Intanto Abbiamo Due caramelline Di queste Qua Poi Abbiamo Due marshmallow Arancie Poi abbiamo Degli Super soups Piatti Eccoli Eccoli qua Carini Ah Poi abbiamo Un sacco di Chupa Chups Qua Però Ti dirò Che ne mangerò Uno Per Perché Sennò Qua ci Ingrassiamo Allora Li abbiamo Con la carta Nera E con la carta Arancio Ce ne sono Tanti Pensavo A trovare Altro Invece Solo Chupa Chups Ragazzi Solo Chupa Chups E' stata Una delusione Per questo Perché Pensavo Ci fosse Cosa Un po' Più Diverse E invece Guardate Qua Tanti 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 Chupa Chups Tantissimi E poi Ci sono Delle Caramelline Penso Siano Caramelline Comunque Ragazzi Questo Oddio Recipiente Mi servirà Per il video Che uscirà L'Umedi Ah sì Vi ricordo Che il prossimo Video Uscirà Non martedì Ma lunedì Perché è Allunghi E ci sarà Una bellissima Sorpresa Vi racconterò Una storia Lunedì Una storia Molto Molto Bella Quindi Non mancare E questo E questo Mi servirà Per L'Umedi Allunghi Allunghi Non Allunghi bene ragazzi adesso andrò a mangiare oddio non tutto questo ben di dio perché sennò mi si marciscono i denti però i marshmallow ve li voglio mangiare tutti e due perché questi mi piacciono a me tocca questo video lo sto facendo di mattina colazione non l'ho fatta farò colazione con questo stamattina e dopo con il chupa chups sarà lo speed painting che lo farò con chupa chups mamma mia ragazzi che profumo mamma mia che profumo non 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 ma ragazzi avvicino un po' il microfono così sentite meglio il rumore il nostro corso gratuito www.mesmerism.info sentite lo stesso no? lo lontano così almeno vi faccio vedere la scenografia ragazzi è arrivato anche Zeus questo non era previsto comunque il micione è venuto a farci visita buonissimo buonissimo ragazzi una piccola interruzione pubblicitaria il bello della diretta che c'è qua all'ora di maturale questo questo coso coso a te o sono delle caramelli in e la città ti dai non male, sono delle caramelline piccoline abbiamo anche il micho oggi, sono delle caramelline che fanno un bel rumorino allora, questo qua, sono buonissime però, vi faccio vedere, sono quelle classiche oggi sul video c'è anche lui, e quindi deve esserci anche lui sempre questa è buonissima, sono un po' durettina, però non c'è male il gusto è all'inizio fresco e poi è un po' più gallo, i colori cambiano il gusto leggermente quindi ecco, un po' fresco, un po' fresco un po' fresco stress, 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 stress per fare un nuovo video e quindi vediamo un po' cosa fare ecco facciamo questo video nuovo e vediamo un po' come andrà per me sarà una sorpresa questa oggi adesso ormai si è abituato a vivere anche nelle live a farsi vedere anche lui perché giustamente si deve far vedere anche lui la metto qua per bellezza in modo che non era male diciamo però insomma si lasciava un po' desiderare allora vediamo qua abbiamo queste caramelline ho il testio e la zucca penso proprio che aprirò la zucca no Zeus aiuto buono è un po' traballante la tavola quindi cerca di stare un po' tranquillo qua ci vuole aiuto la mia forchetta ecco qua facciamo prima così perché se no ragazzi ecco è una caramellina è fatta a cosa ecco qua una caramellina vedo Zeus la qua la qua la qua la qua è una caramellina la qua bella la qua bella bella Sì frizzera tic ma le crisanti queste sono buone veramente buone adesso andiamo ad aprire questo piatto cioè quello tondo e quello piatto e qua ragazzi vi farò lo speed painting sia con uno che con l'altro il famoso speed painting no no Zeus fai il bravo dai puoi venire qua? vieni qua dai eccolo qua ragazzi eccolo guante carino buone 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Perché sono saldati così bene ragazzi che si fanno fatica ad aprire. E allora vi servo della mia forbice così che faccio anche prima. Andiamo a scartocciare questo. Wow, ho scelto quello giusto alla fragola ragazzi. Sì, perché ci sono vari gusti. E allora ho scelto quello che piace di più a me ovvero alla fragola ragazzi. buonissima. Buonissima. Sì. 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 Bene ragazzi. Anche oggi siamo arrivati alla June. Alla fine di questo video. Vi do appuntamento al prossimo video. e si vediamoci lunedì con il video super. Non mancherate. Ciao.